I cosiddetti cibi spazzatura ad elevato contenuto di grassi facilitano la comparsa di allergie alimentari nei bambini. La ricerca indica che negli ultimi dieci anni le allergie alimentari sono aumentate di circa il 34% e che sono triplicate nei bambini con meno di tre anni. Una tecnica non invasiva utilizzata per la prima volta nei bambini indica che l'accumulo delle sostanze dannose presenti nei cibi ultraprocessati è molto maggiore nei tessuti dei bambini affetti da allergie alimentare. Grazie